C'è voluto lo spray al peperoncino per neutralizzare l'aggressività di un uomo che si stava avventando contro di loro. Così domenica sera gli agenti della questura di Sondrio hanno bloccato un cinquantenne residente in città che in stato di evidente alterazione psicofisica aveva colpito con un piccone la saracinesca di un garage in lamiera di fronte alla sua abitazione. Chiamati sul posto da un vicino allarmato i poliziotti hanno subito dovuto affrontare l'atteggiamento aggressivo e non collaborativo dell'individuo che aveva preso dalla cucina un coltello di grosse dimensioni brandendolo contro di loro. Di qui dopo avergli intimato senza esito di posare l'arma il ricorso allo spray in dotazione per contenere temporaneamente la veemenza dell'uomo denunciato a piede libero per i reati di resistenza pubblico ufficiale e minaccia aggravata e condotto con l'ambulanza in ospedale per le cure medico-psichiatriche del caso.